I problemi non saranno spariti dall'oggi al domani, ma di sicuro qualche famiglia numerosa ha potuto tirare il fiato. I dati del progetto, finanziato dalla Regione Veneto e indirizzato ai nuclei familiari composti da 4 o più figli, sono stati presentati oggi a Villa Querini, sede delle politiche sociali del Comune di Venezia. Il bando del progetto era stato vinto tramite gara pubblica dalla conferenza dei sindaci dell'US12 e riguardava quindi le famiglie numerose di 4 comuni. Delle 427 famiglie con 4 o più figli che risiedono a Venezia, 333 hanno ottenuto il finanziamento. A Cavallino Treporti i nuclei familiari aiutati sono stati 7, a Marcon 20 e a Quartodaltino 8. È un progetto che valeva 200.000 euro. Naturalmente la progettazione era stata vinta dai comuni dell'US12 in partenariato e con capofila il Comune di Venezia. L'obiettivo era quello, in una situazione di contingenza così particolarmente complicata per le nostre realtà familiari, di trovare opportunità di supporto e quindi di andare incontro, per quanto possibile, ai nuclei che fossero numerosi ai configli in età scolare, concentrati dal punto di vista numerico in età scolare. Oltre ai bonus per le mense scolastiche, ai contributi per frequentare scuole private a Silinido e agli aiuti sulla TIA, il progetto prevedeva anche la concessione di microcrediti per spese domestiche a questi utili ristrutturazioni o attività sportive. Sostanzialmente sono stati erogati poco meno di 50.000 euro sino ad oggi e i rientri stanno procedendo in maniera senza nessun problema. Questi soldi servivano alle famiglie per cosa sostanzialmente? Sì, sono finanziati interventi riguardanti la casa, che rimane l'aspetto principale sul quale le famiglie numerose stanno investendo, e l'istruzione, in secondo luogo anche poi per spese mediche, ma le motivazioni principali sono legate alla casa e all'istruzione. Allora, hanno fatto richiesta sull'intera conferenza 45 famiglie, ad oggi sono stati erogati qualcosa come 12 microcrediti, questo, perché appunto le condizioni anche economiche sono cambiate da parte delle famiglie, per cui ci sono state delle difficoltà da parte delle famiglie ad accedere a questo strumento. Ecco, per esempio qualcuno ha perso il posto di lavoro, è successo? Qualcuno ha perso il posto di lavoro, nel senso che si sono attivate una serie di casse integrazioni, qualcuno ha visto ridurre il tempo lavoro, di conseguenza anche le proprie capacità reddituali, e con famiglie con minimo 4 figli, questo ha un certo impatto sulla sostenibilità complessiva.